Salve a tutti ragazzi e bentornati su Titanfall 2, ci tenevo a precisare, anzi a ringraziarvi per il supporto che ci date per le numerose richieste di portare altri episodi su Titanfall 2. Mi fa piacere che vi stia piacendo, soprattutto mi fa piacere così avrò modo di continuare a registrarlo con più frequenza. Tornando a noi ci troviamo, come l'ultima volta, a cercare una soluzione per ritrovare il nostro amico bitter. Siamo finiti nella spazzatura. Dove vado a BT? Dobbiamo attraversare questa struttura e raggiungere il Maggiore Anderson, è la nostra unica speranza di sopravvivenza. Oh cazzo Salve Cerco il Maggiore Anderson Non lo scelte? Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Ho saputo che un Titan di classe Vanguard e un pilota della SRS stanno eliminando il mio gruppo del DFC Chiunque tu sia Quella di tua mamma Scusate se ho un po' ruggito Tu comunque Cosa Comunque Sto giocando Più giochi contemporaneamente Finalmente sto giocando a PG Contemporaneamente e mi trovo... Adesso già sto cominciando a diventare più complicato del dovuto... Non ci vediamo da un po' Bt. A dire il vero il tuo casco mi ha formito una ripresa indiretta delle tue azioni. Hai combattuto bene pilota. Pilota i controlli per bloccare il liquame sono nella prossima stanza. Guarda il tuo UAD. Simbatico questo Bt eh. Questo Bitter. Per una volta la cavo di provarla a fare la stealth. Ecco. È incredibile. Lancio termite! Pilota, dovremo disattivare i flussi di liquame per riunirci. Ho contrassegnato i comandi sull'AD. Controllo del sistema filtraggio delle bombe. Arresto di emergenza attivato. Rilassate i TIC! Tiratele fuori! Rassa 4 volante. Rilassate i TIC! Spegnimento pompa. 20% Che sostidosimo! I liquami contengono molti metalli pesanti che interferiscono con i miei sistemi di puntamento. È così difficile! Spara! Sparare alla cieca verso il mio pilota violerebbe il protocollo. Ho bisogno di ru hopefully! Parabintinesspaaaaam Rasmus3 Spara spara Smruddin! Porco! Chi si cazzapato è avuto? su se se mi deve parlare simbile E' tosse! E' tosse! Sottanto visivo col pilota ristabilito, fuoco di supporto, pericolo vicino. Perita, sicuramente! Marco 2! La battaglia è difficile, ma sei stato bravo, l'ho registrato. Ho identificato un'uscita su questo lato, di qua. Visto, visto! Andiamoci! Trasferimento comandi a pilota. Protocollo 2. Proseguire la missione. Abbiamo l'ordine di riprendere l'operazione speciale 217. Incontrare il Maggiore Henderson dell'SRS. Ok. 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 Non sei stato invitato alla festa di Kay. Per questo sei morto? Bene, un altro eroe in fuga. Con un Titan di classe Vanguard della SRS. E vai! Sì! Ora si va sul serio! Si combatte ancora. Siamo iniziò alla festa, fuori! Gostate inizialmente! Ma non si sa così! Come si è iniziò a fare, che sono inizialmente che è morto! Non si può poter essere morti! Siamo inizialmente! Quad Crossed. E finisce di scappato, morto di me E finisce di scappato, morto di me E finisce di scappato, morto di me Ok, ci servono rimposti nelle gallerie Bene ragazzi, noi ci becchiamo al prossimo gameplay E ci becchiamo al prossimo gameplay ragazzi Ciao